Il reparto ortofrutta del tuo supermercato prevede l'utilizzo dei classici sacchetti in bioplastica? La linea tracciata dall'Unione Europea, tramite il regolamento REACH, stabilisce uno stop all'utilizzo di questi materiali. Propac ha brevettato una soluzione alternativa ed ecologica. Un dispenser di sacchetti di carta interfogliati, progettato per minimizzare i contatti e massimizzare l'igiene. Un piccolo grande cambiamento per il bene del nostro pianeta. Richiedi un preventivo.